No, no, mi bacio, provate! Adesso mi bagno io! Taman, Tia, Uri, Aje... Grazie mille. Prima ci risponderai, prima la lasceremo dormire. Claire rischia fino all'ergastolo. Ricominciamo da capo. Lei tocca questa cosa calda, ma in quell'istante non capisce di che si tratta. Lei partorisce senza aiuto e senza gridare. Non pensavo di stare per partorire. Lo saprei se mia moglie fosse incinta. Ma come hai potuto tralasciare una cosa simile? Se pensi che menta, chi mi resta? Io sono come te, sto cercando la verità. Aspetta, non capisco. L'hai sentito? Claire si è lasciata ingannare dal suo stesso corpo. Passa a sera! Nessuna alterazione della sua facoltà è stato detto. C'era l'intenzione di ucidere. Allora basta, smettila di torturarti! Vorrei poterlo conoscere. Allora basta, smettila di torturarti! Allora basta, smettila di torturarti! Allora basta, smettila di torturarti!